Eccoci qui come state amici e amici ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi al nostro canale YouTube Parliamo un po' di tutto, vi ho lasciato un like perché sta succedendo davvero di tutto per quanto riguarda il calcio mercato Ricordiamo che siamo all'ultimo mese, un mese finale in cui ci saranno tante operazioni Detto che mai come quest'anno è stato un mercato, devo dire, che ha regalato colpi ed emozioni già a giugno e anche a luglio stesso Andiamo subito a raccontare tante, tante, tante notizie che riguardano Milan-Inter e Juventus Partiamo subito, dai facciamo un po' di ping pong da una parte all'altra L'Inter sta per chiudere per Samaric, operazione molto interessante, entro 48 ore la fare si dovrebbe chiudere Con dunque un ulteriore rinforzo per il centrocampo dell'Inter Facciamo un giro a Napoli dove Lalilal, attenzione, ha offerto 140 milioni per Oshimane E ha lui un ingaggio stratosferico Vediamo se De Laurentiis accetta, secondo me a 140 De Laurentiis accetta La palla passa Oshimane che deve decidere se accettare e andare in un calcio secondario Oppure continuare a giocarsi le sue chance in un calcio sicuramente molto più importante Dopodiché attenzione anche alle altre novità Facciamo un salto in casa Milan e poi ci torniamo in casa Milan Perché Milan deve cedere i giocatori Su De Chetelare, dopo l'interessamento di Aston Villa dell'Atalanta L'interessamento del PSV, club unico rifiutato da De Chetelare Che sembrava quello più convinto C'è il Marsiglia e anche il Lann Ci sono Marsiglia e Lann in Francia, Ligue 1 quindi Come diciamo così campionato che potrebbe tentare De Chetelare Che il Milan non vuole confermare, dal quale Milan vuole ricavare soldi Il Milan non vorrebbe darlo in prestito proprio per avere la certezza poi Di incassare soldi, dare e investire sulla punta della quale adesso parliamo Ma, fatemi andare ancora a proposito di punte In questo caso in casa Inter Con una prima offerta da 22 milioni di euro per Scamacca West Ham valuta al giocatore una cifra superiore, l'ha rifiutata La Roma in questo caso si trova un po' in difficoltà E oggi avrebbe come l'unico attaccante Belotti Perché Ebram è infortunato e sarà fuori anche a lungo Scamacca che è il preferito in questo momento Ed è il nome caldo per l'Inter Jonathan David qualcuno ne ha parlato ieri Figurati, Baloghan costa di più E l'Inter dunque ha virato prepotentemente su Scamacca Perché per me è un giocatore che farebbe il caso di tutte le grandi Si può rilanciare A proposito di grandi poi c'è il discorso Lukaku Tra parentesi leggevo oggi un articolo Lukaku, l'avido, il mercenario che cerca soltanto soldi Il quotidiano rosa, il principale quotidiano sportivo in Italia Lo stesso quotidiano che qualche settimana fa scriveva Il gigante buono che vuole l'Inter Vuole tornare dall'Inter a casa sua eccetera eccetera Da gigante buono all'avido Capite come cambia spesso la narrazione a seconda delle convenienze Su questo davvero stendo un velo pietoso Così come leggere certi articoli O sentire certi articoli che dicono Ma l'Inter se vuole la paga subito la clausola di Sommer Perché non l'ha pagata L'Inter se vuole i 30 milioni per Lukaku Li tira fuori subito Perché non li tira fuori Ignorando poi la situazione economica finanziaria Credo che un giornalista debba avere il dovere Di non stare in silenzio di fronte a certe dinamiche Ma chiudo la parentesi Ulteriore aggiornamento Per quanto riguarda il mercato Un mercato davvero clamoroso Poi torniamo ancora sul Milan Perché a proposito di Lukaku Lo vuole la Juve Lui qualche giorno fa ha detto Ma non credo È difficile che si possa fare Non dirò mai forza Juve Su questo ovviamente Sulle parole dei calciatori in particolare di Lukaku Bisogna sì Che entrino da una parte e che escano dall'altra Si lavora adesso con il Chelsea Che è aperto a uno scambio con Vlaovic Più indennizzo però attenzione Perché il prezzo di Lukaku è 40 La Juve ne vorrebbe versare 37,5 più di 1,5 di bonus Il problema però è tutto questo La valutazione che la Juventus fa Di Vlaovic Con dunque Il Chelsea Che dovrebbe dare Lukaku Più 40 milioni per Vlaovic Su questa doppia valutazione Non c'è grande sintonia in questo momento E quindi vediamo sicuramente Ecco la Juve c'è di Vlaovic Siccome Vlaovic con Allegri Farebbe fatica a imporsi lo prossimo anno O comunque a tornare a essere un grande bomber D'altra parte ti porti a casa Lukaku Che ha 30 anni Che segna di più per il prossimo anno Però poi è un costo che ti rimane solo il gruppone Vediamo anche qui le evoluzioni Sicuramente sarebbe un trasferimento clamoroso Che porterebbe la Juve ad essere ancora più candidata Per l'anno prossimo sul scudetto Ricordando che la Juve non farà le coppe E questo va ricordato Dopodiché Il Milan dicevamo deve cedere Ci sono diversi giocatori in uscita Messias che deve accettare Begittas C'è Salem Akers Per i quali ci sono un paio di sondaggi da club di Bundesliga Di De Ketelar abbiamo detto Origi stesso Che il Milan vorrebbe piazzare Milan che poi farà un numero 9 Attenzione Perché la pista Lecchio-Veliz non è così calda Da quello che mi arriva dal club Tant'è che Il giocatore sta ricevendo Interessi barra offerte Dall'Inghilterra Milan che deve cedere E vuole incassare dei soldi Da reinvestire poi per Il numero 9 Ulteriore Dopo Giroud Con un caffor che può fare quel tipo di ruolo Ma attenzione perché oggi Da Bergamo E anche da Torino Parlano Di una notizia che sarebbe clamorosa Perché il Milan Secondo questi colleghi Pare Notizia che devo ancora verificare Si sia Inserito nella corsa A Cup Miners Giocatore dell'Atalanta Che piace All'UV A Napoli E secondo queste indiscrezioni Ripeto Sia Bergamo Sponda Atalanta Che Torino Sponda Juve Ci sarebbe anche il Milan Ricordo che Milano e Atalanta Stanno parlando Di Bechetelare Che è un pallino Della dirigenza Bergamasca Primo clave a interessarsi a lui Ma anche Di Colombo Con il Milan Che ha detto no Milano vorrebbe mantenere il controllo L'Atalanta lo vuole a titolo definitivo Chissà che non si possa aprire un discorso Come qualcuno Già Ha scritto E raccontato Su Cup Miners Da mettere lì in mezzo al campo Se ci pensate È un po' una figura che manca al Milan Colui che sta lì in mezzo E dà poi Il senso e il ritmo A tutta l'orchestra Ditemi che ne pensate E scatenatevi con i commenti Qual è la squadra che si è rinforzata di più Quella che si è rinforzata di meno Qual è la vostra griglia Oggi a un mese Dalla fine del calciomercato Ditemelo qui sotto Scatenatevi con i commenti Mi raccomando iscrivetevi da questa parte Attivate la campanella Qualsiasi squadra voi tifiate E lasciate un bel like A presto per altri aggiornamenti Ciao a tutti